Questa è senza dubbio una delle migliori esche in assoluto. In questa stagione è veramente fondamentale averlo quando è possibile per la pesca della spigola. Bracciolo lungo, bracciolo chiaramente proporzionato al fatto che stiamo insediando un predatore e quindi dobbiamo strutturarci per innescare un'esca che deve essere libera di potersi muovere nella corrente. L'innesco è molto semplice naturalmente, io personalmente lo faccio partendo dalla testa. Per questo tipo di inneschi utilizzo uno scinche misura 1, ma possiamo assolutamente usarlo più grande. Deve essere equilibrato alla dimensione dell'esca, non dobbiamo avere un amo che pesa più dell'esca e la fa affondare. In questo caso la versione 50-355, un amo affidabilissimo che ha tenuto anche su prete molto importante. Facciamo dei braccioli lunghi un metro, un metro e mezzo, lo stendiamo bene nella corrente e stiamo nei primi 30-40 metri e stiamo veramente insediando la spigola con il meglio che sia possibile tra le esche non vive.